Un'interpellanza presentata dall'aprile perché aveva una funzione sollecitatoria affinché non si perdesse la possibilità di effettuare interventi urgenti di ripascimento con quei fondi in alcune località dell'Abruzzo, da Casalbordino a Martinsicuro, al Badriatica, a Pescara, che avevano delle particolari criticità. Le risorse ammontavano a oltre 1.300.000-400.000 euro proprio per interventi urgenti e facevano parte della dotazione ai fondi ex-pain recuperati dalla precedente giunta a Chiodi e ad oggi queste risorse non sono state riscritte o destinate a questi interventi. Quindi la funzione dell'interpellanza era quella, da un lato, di sollecitare una iniziativa amministrativa per fare gli interventi in tempo e dall'altro per evitare che queste risorse andassero disperse o comunque non fossero più disponibili. Oggettivamente ci sono stati degli interventi medio-tempore su altre località, su alcune località. Mi è stata fornita una mappa degli interventi che ci sono stati, ma sulla destinazione di quelle risorse lì che erano funzionali non ci sono certezze. Tra le altre cose adesso la stagione estiva è una stagione che è già nel vivo e quindi sarebbe impensabile fare quegli interventi. Purtroppo interventi che sarebbero serviti per lenire delle situazioni particolarmente critiche per una stagione balneare che fortunatamente è nata sotto i migliori auspici per quanto riguarda il meteo, ma che chiaramente sconta ancora queste criticità per le quali non si è intervenuti tempestivamente.